Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Ricordo che è una persona straordinaria, una persona buona, schiva, una persona che credo che abbia aiutato tutti, insomma, i grandi campioni, Abbaggio, Guardiola, tutti noi, da Nicolini, Minichini, io, quando siamo stati qui ad Ascoli, persona che è brava, brava anche tatticamente a preparare, si parla tanto di Bielsa, lui il lavoro che fa Bielsa adesso lo faceva nell'82 con noi. C'è un momento particolare che ricorda, ha vissuto con lui un aneddoto? Un po' di tempo poi abbiamo avuto dei problemi, poi come allenatore eravamo a San Benedetto insieme al mare, tutte le sere tatticamente preparavamo tutta la stagione. Sono mille e tanti ricordi legati alla fortuna, come moltissimi nel calcio hanno avuto di incontrare una persona sui generis. Mi viene da dire troppo diversa rispetto agli altri perché aveva dei valori che in quel momento magari non erano esclusivi, oggi sarebbe impossibile da vedere. Ho pubblicato una foto dove lui mi parla a fine partita e sembra la classica foto di fine partita. In realtà io mi ricordo benissimo quello che lui mi disse. Era un Perugia-Brescia dove noi pareggiammo, eravamo matematicamente salvi a qualche giornata dalla fine e qualcuno del pubblico fischiò quel pareggio. E lui mi guardava e mi disse che buono, che buono questi. E io gli ho detto no, sono arrabbiato, mister. Veramente nel calcio è una cosa strana. E lui andò in sala stampa e disse che quando tornerete a mangiare la mortarella ve ne accorgerete. E purtroppo ci ha avuto ragione. Enrico Nicolini se ne va un grande per il calcio italiano. Grandissimo personaggio, ha fatto la storia del calcio in Italia. Io posso dirlo a piena voce che sono stato un suo fedelissimo scudiero. Sono stato nove anni con lui, quattro squadre diverse. Sono il giocatore con più presenza in panchina con Mazzone. Quindi la dice lunga su quel legame che c'era tra me e il mister. Faccio prima l'esempio. Quando salivamo le scalette per entrare in campo, diceva la terra arbitraria. Garantiteci almeno del 49%. Come per dire, capiamo che siamo lascoli, magari siamo un po' poverelli. Però non fregatevi tutta la torta, fatecele mangiare un po' anche a noi.